Musica 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 Questa specie di valigia autarchica è stata fatta da mio padre nel lager e è riuscito a portare a casa tutto il materiale che lui ha fatto e scritto e disegnato nel lager non ha dimenticato nulla Musica Mio padre tutte le cose che ha scritto nelle quali ha profuso il suo impegno civile e morale le ha sempre fatte usando queste chiavi di vita, fede, speranza e interesse per il prossimo, la carità Musica Musica